buongiorno buonasera buon pomeriggio dipende a chi ora vedete questo video che sto registrando tutto con l'iphone e la modalità cinema che fa questo sfocato dietro alle mie spalle se vedete perché sono in un parcheggio nel campo alle mie spalle non sono in vacanza quest'anno le vacanze saranno veramente un miraggio lontano visto che fenix ha deciso di andare in calore l'unica settimana in cui ero libero e vabbè dai purtroppo è così quindi come potete ben capire sono qua per lavoro e quel furgone azzurretto laggiù in fondo dovrebbe un po' spolerarvi che sono a fare spettacolo per bufalo per chi non lo sa perché non mi conosce io ho una compagnia d'artiste in strada ma sono alcuni insegnanti di partaglio freestyle specializzato nel classic slalom quindi se dopo 54 secondi di chiacchiero a vanvera non ti sono a noia e soprattutto riesci a capirmi sto cercando di lavorare molto sul riuscire a spiegare a parlare più lentamente e se mi avvicino al generatore anche se miglioro voi non sentite niente quella macchetta arancione raggio in fondo quindi si è scritto al canale managgia te non metterò grafica animata perché ho computer o le camere però vorrei portare più video e purtroppo mi manca il tempo c'è sembra una biscata a portare contenuti sul mondo del partitato quindi partitando quest'anno ho durato veramente fatica però credo tanto in youtube credo tanto nei social credo tanto nel fare informazione e promuovere il passeggio quindi iscriviti al canale così mi aiuti un po' a promuovere il patinaggio freestyle allora volevo fare un post analisi dello stagio che ho organizzato a Certaldo che è stato tra virgolette un mezzo flop perché è tanto figo parlare dei successi delle cose fighe è anche bene analizzare un po' gli errori un po' gli sbagli ho fatto probabilmente sicuramente farlo fra settimana non era già di per sé la chiave vincente ma devo essere sincero credo che anche se avessi fatto lo stage di weekend quindi del fine settimana non sarebbe con nessuno e questo non lo so perché probabilmente perché non piace come insegno io non piace molto partecipare a una lezione collettiva con me di freestyle forse è più figo andare a fare le ppg quindi andare a partitare per strada però ho organizzato un po' di free skate anche non l'ho ripreso però comunque voglio andare in paese andare a fare dei trick anche in senera fare un po' di free skate insomma avrei avuto un po' di piacere che ci fosse stata una partecipazione maggiore premetto non è che dico che le ppg sono orribili non vanno fatte anzi le ppg è un grandissima opportunità di riuscire a pattinare tutti insieme e vedere i posti bellissimi quindi sono super favorevole alle ppg vanno fatte e sono belle io non ne ho fatte pochissime in realtà forse nessuna ma proprio perché tra gli spettacoli fra le gare sono sempre sempre a giro ed è veramente difficile mi ritaglio mi ritaglio scusatemi un po' di spazio per pattinare infatti in questi tre giorni ce l'ho fatta rimettere i pattini ai piedi andare a fare un po' di free skate provare i 12 raio 90 84, 84, 90 che in questo video a fine video vi do anche due o tre spoiler su questo raio però ecco a parte questo diciamo che anzi sono contento perché sono uscito a fare dei trick più o meno carini cosa che era tanto che non andavo a fare dei trick per divertirmi e basta quindi tutto sommato top quindi provo a un po' analizzare le colpe beh allora da un lato sono contento una ragazzetta veniva a trovarmi da Milano che ciao Emma saluto credo sia divertita ha giocato degli stagi particolari ed è questo che mi spiega perché comunque avevo ho visto che funziona è carino super non ho fatto video forse potevo fare più video però sto lì a insegnare un po' di più ho fatto qualche tiktok ma perché perché tiktok apre il telefono accendo la foto di camera e poi mi metto a registrare quindi veramente super facile fare un tiktok youtube è un po' più compliato questi video qui che sto facendo ora beh lì c'è tipo al dietro cerchiamo una vista un po' più carina però cioè non mi convincano per youtube perché comunque sia prendi il telefono in mano registri butti direttamente i video online passi comunque da youtube studio forse sarebbe più sensato creare il video montarlo e renderlo un po' più figo anche perché come noterete in questo video cioè parlare su youtube diventa molto dispersivo anche quindi anche facile poi che uno parli tanto e il senso è questo vedi in un minuto ho divagato e diventa più compliato il vantaggio di fare questo video è che potrei portare più potrei riuscire a fare una programmazione di video anche pattinando perché qui se voi partiti potrei portare dei contenuti in movimento però stringi stringi non so se questo format possa crescere su youtube me lo direte nei commenti qui sotto perché ti sei iscritto al canale mannaggia se non vi iscrivete mi fate arrabbiare intanto cerchiamo di non essere investiti alle macchine perché io attraverso senza guardare dice porta male molto bene quindi senso di questo video anche farvi due risate molto bene quindi torniamo all'analisi di questo stage cosa trattate in questo stage molto bene la ripartenza in realtà devo essere sincero avrei avuto piacere che avreste anche voi partecipato mannaggia a voi però in realtà ho creato lo stage per le scuole quindi avevo già una mezza idea sarebbe stato un flop e forse questo è stato l'errore se ho partito l'idea vabbè tanto lo fò per le mie scuole quindi anche se non ci vede nessuno come è stato va bene lo stesso perché l'ho studiato per questo però se uno parte già con l'idea di che non funziona sicuramente ci riede poco e non riesce a portarlo comunque beh non so fatemi sapere nei commenti se vi ispira che magari rifaccio in futuro un altro stage fatto più organizzato anche per chi è dietro telecamera magari dedicando un solo giorno magari su tre no magari faccio parte lo stage di domenica domenica la dedico al mondo social youtube a chi vuol pazzinare con me e il lunedì martedì e mercoledì la dedico a chi invece vuol pazzinare a livello buonissimo anche di altre scuole può venire la cosa che mi piacerebbe coinvolgere è proprio far vedere come insegno pazzinare con più persone che le mie atleti facciano amicizie faccio gruppo conoscono altre persone questo sarebbe un po' l'obiettivo che vorrei raggiungere cioè arrivare a creare un movimento intorno al pazzinaggio anche agonistico di unione e non di divisione dico questa da qua perchè mi sembra che si stia andando sempre di più verso la divisione non verso fare gruppo aiutarsi crescere in maniera positiva non tutti eh non è sennò sembra che tutto il mondo del pazzaglio faccia schifo è una mia impressione di alcune realtà compresa le mie perchè le mie ragazze le mie atlete quando scendono in gara fanno molto gruppo a sé questo perchè perchè sono comunque molto amiche si vogliono molto bene stanno molto ben insieme però sicuramente un gruppo così unito è anche difficile che vada a cercare si apra cerca amicizie insomma un po' più complicata eh questo è proprio una cosa che vorrei andare a allevare cioè mi avrei piacere che ci fosse molta più partecipazione delle mie atlete verso anche le altre atlete parlo sempre sulle mie perchè non vorrei creare delle guerre immediate che non non ho cioè e anche perchè non mi piace giudicare altre persone quindi giudico sempre me stesso come dello stascio non do la colpa a a chi è di là la telecamera quindi chi guarda da un telefono ma do la colpa a me cioè se questo stascio di per sé non ha funzionato il 99 per cento della colpa potrebbe essere mia l'ho proposto male non l'ho fatto funzionare io eh magari ho fatto degli argomenti anche poco chiari sono uscito tardi magari con la programmazione di video anche perchè l'idea è stata fatta all'ultimo secondo quindi sicuramente questo non ha aiutato ma come vi ho detto all'inizio principalmente sono già appartito l'idea che lo stagio di per sé sarebbe stato un flop no? e ho messo le mani avanti dicendo sai che siccome secondo me non vede nessuno prima di rimanersi male ho detto punto sulle mie scuole che so che comunque sia partecipavano chi vuole fare gare con me era tra virgolette semi obbligato a partecipare a questo stagio ero molto contento veniva anche una ragazza da fuori a vedere come eh si pattenava poi è rimasta molto contenta perchè si è chiuso alcune figure che lei interessava in tre giorni quindi lei è stata molto salinata tantissimo sulle temperature è estreme cioè ci siamo andati fino all'una quasi mezzogiorno e mezzo e si sfiorava i 40 gradi sotto il sole perchè mamma mia poi i tre giorni più caldi ho ribeccato io cioè ora c'è un grigio esagerato e ovviamente quando faccio lo stagio un sole che sembra di essere in Africa nei deserti a pattinare ottimo come sempre mia solita fortuna ecco qua ragazzi che ho fatto questo video analisi di questi tre giorni a livello di argomenti trattati sono contento ho fatto amicizia ancora di più con questa ragazza ti saluto ciao Emma ho fatto amicizia con i suoi genitori abbiamo parlato adesso hai fatto due chiacchiere insieme credo che abbiano visto una scuola particolare sono contento di questo e ne vado anche un po' fiero in realtà perchè a parte l'insegnamento i metodi questi sono oggettivi soggettivi e soprattutto ogni persona lavora e ottene un risultato migliore a seconda del metodo quindi magari soprattutto con il mio sistema come insegnio non riescono a raggiungere gli obiettivi e quindi ecco non è che il mio metodo è il migliore il mio metodo anche perchè sono persona normale insegno normale cioè insegno normale no ma perchè fondamentalmente non sono molto normale io però ecco a parte questo non è che tutti si trovano bene con il mio sistema e io sono molto competitivo e mi piace anche eh mettermi in gioco avrei piacere di provare il mio sistema con più persone possibile per capire anche no poi effettivamente su quanto funziona no se oggettivamente si ha dei buoni risultati a livello di gare quest'anno visto che siamo anche a fine video ma ha già 11 minuti e parlo cioè riesco a parlare in maniera interrotta quindi vedete il video sulle gare lo vogliamo fare così senza filtri senza tagli semi in pappino almeno lo vediamo in live in diretta come se fosse una diretta oppure lo volete alla vecchia maniera quindi l'ho scritto ho scritto anche questo video qui eh non è che mi sono messo a parlare a caso in realtà perché mi sono accolto che fare la scrittura del video mi aiuta nel fare dei discorsi un po' più eh dove si capisce un po' meglio però ecco senza tagli senza grandi filtri di mezzo e con questo è il cinema che dovrebbe fare lo sfoglio dietro lo farà lo sfoglio dietro quando manderò arrendizzare il video su youtube avrò lo sfoglio dietro chi lo sa lo vedremo poi stasera online la cosa bella è che ho visto il video sono in ritardo devo andare a preparare lo spettacolo metto il telefono a carriere il video metto le pubblicità per guadagnare quei 5 centesimi da youtube e niente senza aver perso tempo veloce quindi ragazzi ho il video del tempo di iscrivervi al canale a te la mia mette il piacere al video e fatemi sapere sotto nei commenti non avete paura cioè non si capisce faccio questo video Giacomo cosa dici Giacomo lo sta le vostre idee sullo stagio se avreste avuto il piacere a partecipare a partire con me o se c'è ma figurate devo venire a partire con un pirla del genere sto molto meglio sul divano a casa o mi piace fare le ppg magari potrei organizzare una ppg in futuro una ppg di escape o skate ci potrebbe stare ok c'è un boss commento qui sotto divertitevi a commentare condividete il video alle persone possibili e fatemi sapere se questo video è chiaro o se devo andare ancora meglio a parlare o magari un corso di edizione da fare teatro ci potrebbe stare in realtà non ho anche fatto teatro ma funziona un po' ragazzi io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale tenere una penna e mettete a piacere il video ciao 12 minuti 13 sto prendendo tempo per aumentare i guadagni ciao